Musica Ultima edizione di Stadionews24, in studio Giovanni Mazzola. Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo al match di lunedì 17 ottobre contro il Torino. La squadra di Roberto De Zerbi, al tenente orato di Bocca di Falco, ha svolto dopo gli esercizi di riscaldamento dei lavori tecnico-tattici in campo. Sospiro di sollievo per il portiere del Palermo Josip Posavec, che ci sarà contro il Torino, partita in programma lunedì 17 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Renzo Barbera. La risonanza magnetica non ha evidenziato nessuna lesione muscolare, legamentosa e cartilaginea. Allenamento differenziato e fisioterapia per Treykovski. Solo fisioterapia per Embalo. Norbert Balog, attaccante del Palermo, direttamente dal ritiro dell'Ungheria Under21, ha parlato al suo stato di forma. Ultimamente sto trovando maggiore fiducia in campo, ha ammesso Balog. La partita contro la Juventus mi ha dato più forza e più fiducia. Proseguono gli impegni dei giocatori del Palermo con le rispettive selezioni nazionali. Oggi in campo Aita Malesami nella sfida contro l'Azerbaijan e Tiago Cionek in Polonia e Danimarca. Entrambi i match per le qualificazioni mondiali di Russia 2018. Per tutte le altre notizie è stadionews.it Aita Malesami nella sfida contro l'Azerbaijan e Tiago Cionek in Polonia e Danimarca.